Non ci sono stati colpi di scena. Seguendo una linea che ha uniformato la sorte di gran parte dei ricorsi presentati negli ultimi anni da ex amministratori di altri comuni italiani, il Tar del Lazio ha confermato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Ostuni per infiltrazioni mafiose. I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale hanno riunito in un'unica sentenza le motivazioni relative a due distinti ricorsi proposti dagli ex amministratori tra cui l'ex sindaco Guglielmo Cavallo. Il Tribunale nel testo di una complessa sentenza che ha toccato ogni punto delle contestazioni proposte ha ritenuto che tutte le censure avanzate sono manifestatamente infondate. In particolare il Tar ha valutato che i dati raccolti nel ricorso non dimostrano la capacità di resistenza degli amministratori locali alle pressioni della criminalità organizzata nell'assenza di compromissioni al buon andamento degli uffici, bensì la pericolosità dei soggetti, il contesto difficile nel quale l'amministrazione comunale si trova ad operare, con evidente pericolo per la sicurezza pubblica e di una possibile alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi e amministrativi. Tutti elementi questi che non sono sufficienti per decretare lo scioglimento del Comune ma che dimostrano, secondo i giudici, in maniera inequivoca, l'infiltrazione criminale nella struttura burocratica. Grazie. Grazie.